Il PD non detta l'agenda di governo, i rapporti con il mio partito sono migliorati, ma pretendo il rispetto delle istituzioni. Queste le parole del Presidente della Regione, Rosario Crocetta, in conferenza stampa a Palazzo Orlean, all'indomani del vertice alla sede in azione del PD a Roma, nel corso del quale gli è stato chiesto di riconoscere il ruolo del partito in Sicilia e del segretario Fausto Raciti. Intanto l'assessore all'economia Agnello ha annunciato che la prossima manovra regionale avrà un importo di 350 milioni di euro e servirà a coprire gli stipendi dei dipendenti fino a dicembre. Gestivano lo spaccio di droga da Messina per tutta la provincia, ma inviavano i propri corrieri anche a Catania e Palermo. Sgominata dai carabinieri di Messina un'organizzazione dedita al narcotraffico, arrestate 19 persone e indagate altre tre, fra di loro corrieri, spacciatori ed organizzatori del commercio di droga. Tragico incidente sul lavoro a Misilmeri in provincia di Palermo. Un operaio, Francesco Bisconti, 36 anni di Belmonte Bezzagno, è morto travolto da un piccolo escavatore dopo il cedimento di parte del terreno nella zona della Statale 38. Bisconti è finito in una fossa mentre stava realizzando alcune opere edili. Inutili soccorsi. Ha incassato circa 50 mila euro dalla vendita di telefonini e altro materiale informatico sul web, ma nessuno dei prodotti è mai giunto a destinazione. La truffa è stata scoperta e denunciata dagli agenti del commissariato di Tormina, in seguito alla testimonianza di un malcapitato cliente che aveva pagato 550 euro per un iPhone 5, ma non aveva mai ricevuto il telefonino. Riprende l'assalto alle coste siciliane, oltre 2.500 migranti sbarcati in sole 24 ore. Nell'intero weekend lungo del 2 giugno ne erano arrivati 3.500, altri 450 salvati nel canale di Sicilia. Ha arrestato uno scafista egiziano nel Siracusano, mentre a Caltanissette ha individuato un trafficante libico che aveva chiesto un permesso di soggiorno sotto falso nome. Numerosi i suoi alias. È considerato il basista di molti sbarchi. Presto due casino nell'isola potranno nascere uno a Tormina e il secondo a Palermo, probabilmente a Mondello. Prende il via l'iter parlamentare nazionale sulla proposta votata da Lars e inviata a Roma per trasformarla in legge. Assegnata la proposta alla Commissione di Merito del Senato. Saranno soltanto 338 nuclei familiari su circa 7.440 richiedenti a beneficiare del bonus bebè da 1.000 euro della regione siciliana per contrastare il calo delle nascite. L'assessore della famiglia ha firmato il decreto che approva la graduatoria relativa al secondo semestre del 2013 spiegando di aver dovuto limitare il numero dei beneficiari per le esigue risorse a disposizione. Un'altra siciliana vince un talent televisivo nazionale. La seconda quest'anno si tratta di Sir Cristina D'Accomiso che si aggiudica The Voice sul Rai 2. Appena qualche giorno fa la siciliana Deborah Iurato aveva vinto Amici 2014, seguitissimo programma di Canale 5.